Buongiorno a tutti, oggi vi parlo del kagebo, ovvero il libro dei conti di casa. È un metodo giapponese per imparare a risparmiare e sostanzialmente è un quadernino dove vengono segnate tutte le nostre spese. Ogni mese si presenta nello stesso modo, abbiamo una sezione dove poter segnare le entrate e una sezione per segnare le uscite fisse, tutte quelle spese fisse, quindi come affitto, luce, telefono, gas, ecc. Da questa parte indichiamo quanto abbiamo intenzione di risparmiare e calcoliamo quella che è la nostra disponibilità mensile. Inoltre ci viene chiesto di indicare quelli che sono gli obiettivi del mese e cosa promettiamo di fare. A fine giornata andiamo a segnare quelle che sono state le nostre spese. Spese che vengono suddivise in sopravvivenza, quindi tutto il necessario per sopravvivere come l'alimentazione, optional, quindi bar, ristoranti, shopping e così via, libri, musica, spettacoli, tutto quello che rientra nella categoria cultura e quelli che sono stati gli extra come ad esempio viaggi o regali. Ed infine in basso a destra andremo ad indicare quello che è il totale della nostra settimana. Alla fine di ogni mese andremo a segnare quelli che sono i totali relativi a ciascuna settimana e faremo una sottrazione fra quello che avevamo a disposizione e quanto abbiamo speso nel mese. Inoltre indicheremo se i nostri obiettivi sono stati raggiunti, se abbiamo mantenuto le promesse e considereremo quelli che sono i successi, gli sforzi ma anche gli insuccessi per poter migliorarci. Ovviamente non è necessario acquistare il kagebo, potete tranquillamente farlo con carta e penna o utilizzare un file excel. Il motivo per il quale io preferisco questo metodo è che essendo molto pigra avere un quadernino già impostato, decorato e colorato mi aiuta notevolmente. È un metodo che ho utilizzato per tutto il 2015 e a fine anno ho potuto constatare un risparmio di oltre il 20% della mia disponibilità. È quindi un metodo che consiglio a tutti voi. Ciao!